Era uno dei momenti più importanti e delicati di questa prima parte del procedimento nei confronti dei due quindicenni arrestati per aver sequestrato e torturato un ragazzo di 13 anni di Caltanissetta. I due quindicenni nisseni, arrestati ieri dai caribinieri del comando provinciale di Caltanissetta, con l'accusa di sequestro e tortura, hanno respinto tutte le accuse al loro carico. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, Bianca Maria Bonafede, i due sono comparsi questa mattina assistiti dai loro avvocati. Uno dei due ha riferito al giudice che poco prima si era verificato in alterco tra la presunta vittima e l'altro quindicenne e che lui sarebbe intervenuto solo per riportare la calma. Inoltre ha continuato il racconto riferendo che sempre l'altro quindicenne avrebbe dovuto vendere al ragazzo di 13 anni una sigaretta elettronica e che dopo il suo intervento era stato tutto chiarito. Per i due indagati le accuse pesantissime sono a vario titolo di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il movente del sequestro e delle torture sarebbe da ricondurre alla volontà dei due quindicenni di vendicarsi nei confronti del ragazzo di 13 anni che si sarebbe lamentato con altri di alcune aggressioni nei confronti di alcuni suoi amici. L'indagine, che ha svelato una sfumatura inquietante della realtà adolescenziale nissena, è stata coordinata dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino. Cosentino 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 Cosentino